Un caro saluto anche da parte mia, a voi guide Biforit, mi chiamo Patrizio Ernest Barbone, sono medico e nutrizionista, mi occupo di secondo cervello da tanti anni e soprattutto studio tutte quelle che sono le possibili evoluzioni dei percorsi detox. Percorsi detox che sono stati presentati da noi nel 2015 all'Expo Internazionale per la nutrizione dei popoli e pensate da allora sono stati eseguiti da molto più di 75.000 persone e quindi i benefici che hanno creato hanno determinato un passaparola soprattutto attraverso le testimonianze di persone che hanno avuto grandi giovamenti ma soprattutto hanno avuto l'opportunità di capire che si possono prevenire molte problematiche di salute, che si può ritrovare la consapevolezza e anche il rapporto con se stessi, con il proprio corpo, un corpo che qualcuno ci ha ricordato a essere una macchina perfetta, una macchina intelligente e che quindi ci può dare l'opportunità di avere maggiore energia e anche di modulare le nostre difese immunitarie. Ritengo quindi che tutte le guide detox, in particolare voi guide B4IT molto impegnati nella ricerca di tutte queste opportunità che possiamo avere per approfondire l'argomento, possono avere una grande utilità per tutte le persone che incontriamo. Quindi una missione veramente fondamentale con un metodo semplice, ricordiamo che i percorsi detox possono essere di 4 giorni o di 9 giorni, ma anche susseguirsi prima di 4 giorni e poi di 9 giorni, come ci viene suggerito. Quindi voglio sicuramente confermare che le basi scientifiche, quelle per esempio del premio Nobel 2016 di Osinori Osumi, ma anche di altri scienziati come Walter Longo, hanno sottolineato e stanno dimostrando come abbiamo degli strumenti veramente efficaci, ma soprattutto sostenuti da un'opera importante, fondamentale, veramente anche eccitante, che è quella di essere una guida, una guida B4IT. Un caro saluto e buon lavoro.